nella servitissima zona di Iapigia su stradella Santa Teresa proponiamo in vendita un ampio e luminoso appartamento di 140 metri quadri situato a un piano intermedio in un elegante stabile dotato di ascensore l'ingresso ci accoglie in un arrioso ambiente living inondato di luce naturale con accesso diretto a un ampio terrazzo esterno perfetto per godere di momenti di relax o piacevoli serate all'aperto a destra troviamo una spaziosa cucina abitabile anch'essa con accesso a un comodo terrazzo interno ideale per pranzi all'aperto o come area relax privata proseguendo lungo il corridoio si accede alla zona notte composta da una prima camera da letto con accesso al terrazzo un bagno padronale altre due camere da letto spaziosi e un pratico bagno di servizio con ricostiglio l'immobile è dotato di riscaldamento autonomo garantendo comfort e autonomia nella gestione del clima interno completa la proprietà un posto auto che rappresenta un valore aggiunto in una zona che si è ben collegata e ricca di servizi una soluzione perfetta per famiglie o per chi cerca ampi spazi e comodità in un contesto residenziale tranquillo ma vicino a tutti i principali servizi della città per maggiori informazioni o per fissare una visita non esitate a contattarci ciao alla prossima ciao